Al Black Friday ho preso un paio di Vans da 27€ invece che 40€ perché diciamo che quelle vecchie insomma Poi ho preso un paio di Boxer Calvin Klein perché stavano a 20€ ho detto vabbè va beh c'è un paio di mutande più perché non so dove vanno a finire ma diminuiscono sempre di più Poi questa felpa della Octopus, carina, ha delle grafiche carine, ha 66€ invece che 100€ tipo Uno di quei braccialetti che servono a chi fa palestra o corre, è una scusa, la prossima settimana mi iscriverò in palestra forse E basta quindi scrivetemi qua sotto nei commenti che cosa invece avete preso voi al Black Friday